Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arpal, un flusso meridionale porta un'altra giornata grigia sulla Liguria, domani mercoledì, giornata perturbata per il transito di un sistema frontale, giovedì variabilità, nuovo aumento delle nuvi dalla serata. Il dettaglio, oggi martedì 20 dicembre coperto, piogge diffuse in particolare sul centro Levante, venti in prevalenza meridionali, moderati con raffiche fino a 40-50 km orari, mare in progressivo aumento fino a mosso per onda da sud-sud-ovest, temperature massime in aumento, lungo la costa tra 11 e 13 gradi, nelle zone interne tra 5 e 12 gradi. Domani, mercoledì 21 dicembre, piogge diffuse persistenti di intensità moderata, accumulate localmente elevate sul centro Levante, le precipitazioni potranno assumere carattere di rovescio, venti moderati da sud-est a Levante, raffiche 40-50 km orari, da nord-ovest a Ponente, mare in mosso per onda da sud-sud-ovest, temperature minime in lieve aumento, lungo la costa tra 9 e 11 gradi, nelle zone interne tra 1 e 8 gradi, massime stazionarie lungo la costa tra 11 e 14 gradi, nelle zone interne tra 5 e 11 gradi. Dopodomani, giovedì 22 dicembre, precipitazioni in generale, esaurimento nella notte, nuvolosità in parziale temporaneo di irradamento, ampie aperture nelle ore centrali, soprattutto a Ponente, nuovo aumento della copertura nuvolosa in serata, venti deboli settentrionali al mattino e successiva rotazione dai quadranti meridionali, mare in mosso per onda da sud-ovest, in temporaneo calo a poco mosso sul centro, temperature minime stazionarie, lungo la costa tra 8 e 11 gradi, nelle zone interne tra meno 1 e 8 gradi, massime in aumento, lungo la costa tra 13 e 15 gradi, nelle zone interne tra 6 e 12 gradi, E' tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina Facebook di Arpal, sul profilo Instagram dell'agenzia e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci! A risentirci!